Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove scarpa Rush 2, scarpa da trekking bassa o mid che si candida ad essere una delle migliori di questo 2023. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di queste scarpa Rush 2. Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola presa con mescola SuperGam e nel particolare la Ike 03. L'intersuola in eva a doppia densità ed una fodera in Gore-Tex per l'impermeabilità. Il tutto naturalmente per 380 grammi nella taglia 42. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste nuove Rush 2. Come dicevo una suola presa proprietaria di scarpa con gomma SuperGam. Questa suola mi è piaciuta. Mi è piaciuta tanto, a me le suole presa stanno piacendo tanto. Ha davvero un buon grip su praticamente quasi tutte le superfici. Stenta un pochino sul fango quando è particolarmente bagnato. Però lì è una situazione sempre un po' difficile. Vi assicuro che questa suola tiene benissimo anche su roccia bagnata. Io l'ho provata su del granito veramente bagnatissimo e ha tenuto alla grande. Davvero ha tenuto alla grande. L'unica cosa di queste suole presa, sto notando, è che tendono a consumarsi un po' in fretta. Io ci ho fatto più o meno 150 km con questa scarpa in questo momento e devo dire che il consumo è un pochino altino. Quindi è una gomma sicuramente molto grippante ma che magari essendo così morbida non durerà così tanto a lungo. Continuiamo, passiamo all'intersuola che qua ce n'è davvero tanto da dire. Come dicevo, l'intersuola ha due densità. Troviamo una parte a bassa densità messa sull'avampiede e sul tallone che ci garantisce cushioning. Quindi che ci garantisce la possibilità di poter camminare per tante tante ore con questa scarpa senza arrivare col piede distrutto. E poi troviamo una parte ad alta densità che invece va a proteggerci dall'impatto con le rocce. Davvero ci ho camminato su diversi sfasciumi con questa scarpa e non ho sentito nulla. Davvero potete camminare su delle rocce puntite e non sentirete nulla sulla pianta del piede. Nella parte interna poi è stato messo un inserto in TPU che ci aiuta per quanto riguarda la stabilità di questa scarpa. Adesso poi ne parliamo anche quando parliamo del tallone, però vi assicuro che è una scarpa molto molto stabile. Per quanto riguarda l'intersuola poi troviamo un drop abbastanza classico, quindi comunque è una scarpa che non ci dà problemi per davvero camminare per tante tante ore anche su ambienti, su sentieri di tipologia diversa. Passiamo ora alla parte superiore dell'atomaia, iniziando dal puntale. Troviamo un puntale bello rigido, davvero bello bello rigido. Potete prendere a calcio una roccia e non sentirete praticamente nulla, quindi molto bene il puntale. Per quanto riguarda l'atomaia, bene, mi è piaciuta, materiale buono, non si strappa. Il problema è che è poco traspirante. Io l'ho trovata poco traspirante, soprattutto utilizzata su dei sentieri di media montagna in questo periodo di luglio, devo dire ci ho sudato abbastanza. Sicuramente la membrana in Gore-Tex fa il suo per ridurre la traspirabilità, però così è, nel senso, vabbè, l'impermeabilità, nulla da dire, perfetta. Gore-Tex per quanto riguarda l'impermeabilità va sempre bene, però la traspirabilità mi ha lasciato un pochino così, secondo me si poteva fare un po' di più. La cosa che poi mi piace di questa atomaia è che comunque nella parte laterale troviamo delle nervature che oltre a garantirci un miglior fit, ma questo ne parliamo quando vediamo i lacci, ci aiuta anche a proteggere la parte laterale del piede nel caso avessimo strusciare contro qualche roccia. Quindi comunque è una scarpa che offre veramente un'ottima protezione. Continuando, arriviamo a parlare del tallone. Qua troviamo un tallone molto rigido nella parte inferiore e pian piano va a distrutturarsi fino a diventare abbastanza morbido nella parte superiore. Questa combo, insieme alla parte di TPU che troviamo nell'intersuola, fa sì che abbiamo una scarpa veramente molto 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 stabile. Io l'ho utilizzata, come vi dicevo, su tanto sfasciume, l'ho utilizzata anche un pochino per correrci, per fare una discesa abbastanza velocemente e devo dirvi che non ho avuto nessun problema distorte. Se poi voi sapete che comunque la vostra caviglia magari non è così ottima, potete decidere di prendere anche la versione mid un pochino più alta che quella sicuramente garantisce ancora di più la possibilità di non prendere storte. Per quanto riguarda il collare del piede, invece questo è molto imbottito, svolge ottimamente il suo lavoro, anche quando camminiamo col piede di traverso devo dire che non si sente nessuna pressione, non ho avuto nessun tipo di vesciche, quindi comunque fatto decisamente bene. Arrivando a parlare di linguetta e lacci, beh, questi sono abbastanza classici, linguetta molto imbottita, classica, svolge ottimamente il suo lavoro, resta ferma, isola dalla pressione dei lacci. Lacci, anche loro, come dicevo, che una volta stretti, fan sì che la calzata sia veramente molto fasciante. L'unica cosa è che il laccio è abbastanza lungo. Diciamo che se avessero fatto un 10-15 cm in meno di laccio, secondo me sarebbe stato anche meglio. Per quanto riguarda la soletta, questa è classica di scarpa, io mi ci sono trovato bene. È sostituibile, però io mi ci sono trovato bene, quindi non andrei a cambiarla, andrei avanti a utilizzare quella data in dotazione. Per quanto riguarda la calzata di queste Rush 2, nella parte anteriore abbiamo abbastanza spazio. Non è sicuramente una scarpa wide, non è sicuramente una scarpa perché ha un piede estremamente largo, però comunque c'è un pochino di spazio per quando andiamo a camminare per tante ore e il piede tende ad ingrossarsi, quindi io sinceramente vi consiglio di prendere il classico numero che prendete di scarpa senza dover prendere un mezzo numero o una taglia in più. Per che tipo di escursionista consiglio queste Rush 2? Secondo me van bene per tutti i tipi di escursionista. Dal più esperto, che magari avendo anche una buona mobilità articolare, una buona caviglia, può utilizzarla anche in alta quota su sfasciume, a un tracker più principiante che magari invece preferisce utilizzarla sui sentieri molto più semplici. Questa qua è una scarpa che secondo me davvero può andar bene praticamente per chiunque. La grossa discriminante la può fare soprattutto la persona che la utilizza, se abbiamo una caviglia più allenata o meno allenata. E come vi dicevo, se abbiamo una caviglia meno allenata c'è sempre la versione mid. Su che tipo di sentiero? Anche qua praticamente un po' tutti. Dal sentiero di bassa montagna, anche se lì magari ve lo consegno un pochino meno perché come vi dicevo non è così tanto traspirante. Se avete una buona caviglia potete utilizzarla fino allo sfasciume d'alta quota. Io ci ho fatto una vetta a oltre 3000 metri su sfasciume e mi ci sono trovato veramente bene. Quindi dipende molto che tipo di persone siete, ma sicuramente la scarpa vi può secondare in tutti i tipi di terreno. Arriviamo dunque alle conclusioni. Vi consiglio queste scarpa Rush 2. Sì, io mi ci sono trovato veramente molto molto bene. Se cercate una scarpa un po' tutto fare, lei va veramente super bene. Viene venduta a un prezzo di 160-170 euro online, però tenete conto che è appena uscita, quindi probabilmente il prezzo nell'arco di qualche mese tenderà a scendere sotto i 150. Quindi sì, diciamo che comunque il prezzo in questo momento magari è un filino altino, però ma sono sicuro che quando scenderà sotto i 150 euro diventerà veramente un best buy. Quindi sì, ve la consiglio. E detto ciao ragazzi, una speranza sia stato di servire inteso Stivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!